Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli Battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni Fino alla fine del mondo. Sono passati 40 giorni dalla Santa Pasqua E a conclusione di questa quarantena pasquale Il Signore ci fa contemplare la sua ascensione al cielo Cioè Gesù torna definitivamente al Padre. E in questi 40 giorni Abbiamo sentito Nelle vari racconti Della Sacra Scrittura In maniera particolare Dagli Atti degli Apostoli Gesù ha incontrato i Suoi discepoli Gli ha rinvigoriti In quella che noi chiamiamo La fede nella risurrezione Sarebbe veramente bello Se riandassimo col pensiero Anche noi A questi 40 giorni Che ti separano dalla Pasqua Se il Signore è stato con noi Se abbiamo fatto l'esperienza del risorto Gli Apostoli Lo hanno incontrato Lo hanno visto Lo hanno toccato Hanno mangiato con loro Credere nella risurrezione Non è così semplice Ecco perché Gesù Pedagogicamente Ha voluto rimanere con loro Anche risorto Per 40 giorni Quasi Oseremo dire Fisicamente Cioè Col suo corpo glorioso Oggi però Gesù torna al Padre Torna definitivamente E questo E questo ritorno di Gesù È in poche parole Il modo con cui Il Signore non dà un addio Ma dice Io sarò con voi Tutti i giorni Fino alla fondazione del mondo Anzi Ci dirà qualcosa ancora di più Ci dirà che ci manderà Un paraclito Cioè Ci manderà un consolatore Lo Spirito Santo Infatti Domenica prossima Noi celebraremo Nella cinquantina pasquale La grande solennità Della Pentecoste Ma che cosa vuol dire Oggi celebrare L'ascensione del Signore L'abbiamo sentito narrare Nella sacra scrittura Poc'anzi proclamata Gesù sale verso il cielo È chiaramente Uno sguardo Tipicamente umano Quello di salire Perché Dio Almeno così ci insegnavano Molti anni or sono Dio è dappertutto Dio non è solo nel cielo Dio è ovunque Ma questo sguardo Verso il cielo È il segno Più profondo Del nostro sguardo Verso Dio Dio è Trinità Dio è Padre Dio è Figlio E Dio è Spirito Santo E quando noi contempliamo Gesù che sale al Padre Vuole significare Fondamentalmente Che noi Dobbiamo guardare A Dio Nella sua totalità Dio Padre Dio Figlio E Dio Spirito Santo L'ascensione del Signore Ci pone anche Un'altra grande Manifestazione straordinaria Che è quella Della nostra carne mortale Potremmo dire Che oggi Festa dell'ascensione È la festa Della carne Se mi permettete Dire in questo modo Ma mi spiego Cioè È la festa Del nostro corpo Perché il nostro corpo Glorioso È degno Di essere Nella Trinità Il nostro corpo La nostra corporeità Trasformata Trasfigurata Dalla morte E dalla potenza Della risurrezione Di Dio Ecco che Cambia totalmente Ma è Nella Trinità È In Dio Quando noi Immaginiamo Dio Non possiamo Non immaginarlo Se non attraverso L'immagine Di Cristo Ricordiamo tutti Quella bellissima Immagine Di Gesù Che parla Con Filippo L'Apostolo E dove Dopo aver Parlato più volte Gesù Del Padre E io sono nel Padre E io e il Padre Siamo una cosa sola Filippo Gli chiede Semplicemente Con tanta Superficialità Forse da parte sua Ma Anche Se volete Con quella Innocenza Signore Mostraci il Padre E questo ci basta Facci vedere il Padre Tu parli tanto Del Padre Che Dio è Padre Eccetera E Gesù Che cosa risponde Filippo Chi ha visto me Ha visto il Padre Noi possiamo Contemplare Dio Attraverso Cristo È Cristo Il rivelatore Del Padre È Cristo Che ci Manifesta L'amore Di Dio Ecco perché La risurrezione Di Cristo E di conseguenza Dopo 40 giorni La sua ascensione Al cielo Diventa per noi La caparra Della nostra Vita eterna Cristo Muore Cristo Risorge Cristo Ritorna Al Padre Per essere nel Padre Eternamente Con Il corpo Glorioso È Il destino Di ognuno Di noi Fratelli Sorelle È La gioia Che dovrebbe Penetrare Dentro nel nostro Cuore Pensando Che Ciò che è Stato in Cristo Sarà Anche In noi Anche Noi Vivremo Questa vita Magari Con tante Difficoltà Magari Per alcuni E poi Cosa accadrà Accadrà La morte E dopo la morte Cosa ci sarà La vita Eterna E alla fine Dei tempi Il nostro Corpo Diventerà Glorioso E noi Vivremo Eternamente Con Dio Ecco Il messaggio Il manifesto Più ampio Che noi Possiamo colpire Oggi Il nostro Cuore Manifestando Al mondo Che noi Siamo Fatti Per questo L'ascensione Del Signore È il momento In cui noi Riconosciamo Che abbiamo Un destino Eterno Il destino Che questo Corpo Sarà un corpo Glorioso Per tutta L'eternità Certo Che contemplare Questo Vuol dire Fondamentalmente Avere Una consapevolezza Profonda Di appartenere A Cristo Cristo È il primogenito Di coloro Che sono morti Noi Lentamente Ci prepariamo A tutto questo Attraverso Quelle che sono Le miserie Di questa vita Ma quelle che sono Anche gli aspetti Positivi Dell'esistenza Perché Vivere con La gioia Dell'eternità Vivere con La gioia Di essere Un giorno Con Cristo E essere Con il nostro Corpo Glorioso Dovrebbe essere Per noi La gioia Più profonda Forse 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 noi Cristiani Abbiamo perso La consapevolezza Di questa Gioia profonda Di questa Bellezza Che c'è Nel cuore Di ciascuno Di noi Che vuole In un certo Qual modo Trasformare La nostra vita Guardando Al domani Con un occhio Profondamente Lungimirante Per poter dire Ma signore Ma davvero Noi abbiamo Questo Destino Straordinario Il nostro Destino Che è un Destino Eterno Un destino Con Dio Un destino Nella gioia Definitiva Con il Signore Se Non c'è In noi Questa gioia Fratelli Sorelle Dobbiamo Chiederla Signore Perché La gioia Cristiana Che non è Altro che Un frutto Dei doni Dello Spirito Santo Diventa Per noi L'elemento Essenziale Per come Termometro Come un Termometro Della nostra Fede E la domanda Che ci Potremmo Porre Quest'oggi Dire Ma tu Ci credi Ma tu Credi Che il Signore Può Trasformare La nostra Vita In una Vita Eterna E che Questo Corpo Glorioso Quando Sarà Trasformato Glorioso Diventerà Qualcosa Di Straordinariamente Bello Per tutta L'eternità Fratelli Sorelle Celebrare La Santa Eucarestia La Santa Messa È primariamente Uno sguardo Verso Questo È un'apertura È come Quando si Schiudono Le nubi Del cielo Che entra Il sole Il sole Questi Bellissimi Sguardi Squarci Bellissimi Del cielo E anche così Per noi Questi Squarci Straordinari Dove noi Possiamo Intravedere Nella fede Nella fede Il nostro Destino Eterno Che viene Che viene a noi Nel suo Corpo Attraverso L'Eucarestia Cioè Un'esperienza Sacramentale Non per nulla Quando noi Celebriamo L'Eucarestia Possiamo dire Che facciamo Un anticipo Di paradiso A qualcuno Verrà Da ridere Perché magari Quando viene A messa Guarda Guarda L'orologio Per vedere Quanti minuti Sono passati E quindi Di conseguenza La messa È bella Se dura poco Se dura tanto La messa Non è bella Quindi di conseguenza È un po' difficile Avere questa Consapevolezza Dell'anticipo Di paradiso Perché se il paradiso Dura Dura Così tanto Magari anche Stufa un po' Eh Ma se invece Noi lo guardiamo Sotto il profilo Dell'incontro Che possiamo Porre Davanti a Cristo E dire Signore Ma Io ti posso Vedere Io ti posso Cogliere Io ti posso Fare L'esperienza Vera Del Signore Allora capite Che La messa Diventa Il momento Dell'incontro Più bello Con il Signore Sarebbe Veramente Grato Eh Sarei Veramente Grato Un giorno Che qualcuno Mi dicesse Ma la messa Dura troppo poco Sa Non ne ho trovato Nessuno Finora Dico la verità Finora non ho trovato Nessuno Forse qualcuno Ma E qualcuno Che disse Ma la messa Deve durare Di più Perché Vorrei Assaporare Di più Vivere Di più Questa Esperienza Questo piccolo Squarcio Di cielo Qui sulla Terra In cui posso Sperimentare Veramente La presenza Di Lui Qui E ora Contemplando Allora L'ascensione Del Signore Noi In questo mondo Chiediamo a Lui Mentre ritorna Al Padre Ma che rimane Qui Sacramentalmente Nell'Eucaristia Signore Aiutaci A credere Di più Aiutaci A darci Quella forza E quel coraggio E quella fede Soprattutto Per vivere Intensamente Questa vita Per meritare Quell'eternità Che Tu hai preparato Per ciascuno Di noi Sia dodato Gesù Cristo 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 Gesù Cristo